Se è vero che il lusso sta nei dettagli, è altrettanto vero che i dettagli più preziosi sono merce sempre più rara. C'è un mondo a parte, lontano dalle luci della ribalta, che ne tramanda l'unicità. In questo piccolo laboratorio di Venezia si producono velluti preziosi, tessuti a mano, con sapienza e tanta pazienza. Come possiamo predisporre un telaio alla tessitura, sono necessari parecchi mesi, addirittura un anno. Per esempio questa volta abbiamo fatto questo tessuto per il Cremlino, abbiamo lavorato per un anno. Raffinatezze per pochi, Casa Bianca, Cremlino, Vaticano, case di moda e grandi star. Noi siamo in grado, questa è proprio una delle cose che ci contraddistingue, di riprodurre veramente in maniera incredibile un tessuto fatto due o trecento anni fa. Del resto, i telai su cui lavoriamo hanno due o trecento anni. Dei circa 6.000 telai usati nel XVI secolo, ne restano 18, gestiti oggi da abili artigiani custodi di un'arte antica. Questo è un lavoro fisico, per cui dal preparare il telaio a lavorarci o anche alla costruzione del telaio, tutto manuale, tutto fisico e tutto fatto da noi. Le tecniche sono le stesse di una volta, per cui anche il pensare di utilizzare qualcosa di tecnologico non è fattibile. Con i velluti prodotti in laguna si realizzavano gli abiti più lussuosi della nobiltà europea. La produzione di velluto iniziò a Venezia grazie a 300 artigiani che fuggirono dalla città toscana di Lucca per motivi politici. Da sei generazioni la famiglia Bevilacqua custodisce i segreti di questo antico mestiere.